C'è questa che, guarda qua Questa è qualcuna da... Questo qui l'abbiamo attaccato Il taglio Il taglio Per il taglio Al taglio E' il taglio Lo taglio E' il taglio Questo taglio Il taglio Siamo con la parte E' un taglio libero nei collettivi guarda che ci saranno no per la parata pinta non sono le ragazze guarda no per la parata guarda che cazzo guarda che cazzo guarda che cazzo guarda che cazzo Sì, è vero. guarda un po' di presa guarda un po' di presa guarda un po' di presa guarda un po' di armadi questa ci sarà ma adesso basta ragazzi si metti niente questa qua guarda dove c'era il torchesio guarda non c'era il pallone ora la painara 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 15 16 15 16 16 16 16 17 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.